Benvenuti. Terminate le tribune elettorali, gli appuntamenti speciali della RAI in vista delle elezioni del 26 gennaio proseguono con le conferenze stampa dedicate ai candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. La conferenza si svolge come stabilito dalla delibera della Commissione parlamentare di vigilanza. È invitato a partecipare a turno uno dei sette candidati e a porre le domande insieme a me ci sarà anche un collega giornalista di un'altra testata. La sequenza di questi appuntamenti è stata sorteggiata alla presenza del Corecom. Questa conferenza stampa è stata registrata oggi, giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 9 e la messa in onda è prevista in TV su RAI 3 oggi, giovedì 16 gennaio alle ore 18.10 e in radio su Radio 1 sempre oggi, giovedì 16 gennaio alle ore 19.30. Cominciamo dunque intanto presentando gli ospiti di oggi. Il candidato Presidente della Regione è Domenico Battaglia, sostenuto dal Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. Benvenuto. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Il giornalista che farà le domande insieme a me invece è Paolo Rosato del Resto del Carlino. Benvenuto anche a te. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Da collega naturalmente ti do del tu. Grazie. Allora Battaglia, intanto cominciamo con un'introduzione generale. Quali sono le priorità del suo programma? Ma guardi, il nostro programma ha, se vogliamo, un'unica grande priorità, quello di mettere al centro del nostro programma e delle nostre politiche l'individuo, l'essere umano, la sua salute, il suo stato di salubrità, che non è soltanto una salubrità fisica ma è anche una solubrità psichica, emozionale e quindi il vedere a 360 gradi l'essere umano come elemento fondante per cui attorno a questo elemento fondante poi si svilupperanno tutte le nostre politiche che lo riguardano naturalmente. Paolo. Le volevo chiedere, al di là dei tanti contenuti anche nel vostro programma, il tema vaccini è un po' uscito in questo momento dal dibattito elettorale. Si parla molto di sanità ma né la Borgonzoni, per dire i principali due competitor, né Bonaccini né gli altri candidati nominano i vaccini, nemmeno il Movimento 5 Stelle. Le volevo chiedere come pensate che un argomento come questo sia, che attualmente nemmeno a livello nazionale è molto dibattuto, è stato molto dibattuto, non lo è adesso, come possa diventare il grimaldello per prendere la regione Emilia Romagna? Perché puntare su un argomento del genere per prendere l'Emilia Romagna? Guardi, semplicemente per il semplice fatto che, il fatto che non ne parli, no? Non vuol dire che non sia un argomento di vitale importanza per moltissime famiglie, per moltissime mamme e papà, che hanno dovuto, grazie all'obbligo, hanno dovuto optare per tutta una serie di scelte che magari non erano quelle della famiglia. Noi siamo, come dicevo, molto attenti all'essere umano e alla famiglia. Vaccini Vogliamo Verità ha come principale obiettivo quello di eliminare l'obbligo della vaccinazione con l'annessa obbligatorietà o esclusione dalle scuole, 0-3, e 3-6. Quindi è fondamentale per noi questo perché pensiamo che questo concetto e questa argomentazione incarna moltissime famiglie in Emilia Romagna, dove abbiamo una popolazione abbastanza giovane, dinamica, produttiva e quindi noi pensiamo che il concetto di salute va difeso a spada tratta in qualunque ambito. E anche quello vaccinale è una situazione che andava e va estremamente difesa proprio perché dietro a questo obbligo non ci sono solamente delle argomentazioni di tipo sanitario, ma ci sono forse soprattutto delle argomentazioni di tipo politico. Il nostro partito si è fondato proprio perché su queste tematiche altri competitor politici ne avevano fatto prima un cavallo di battaglia, salvo poi tradire quando erano nelle condizioni politiche di poter incidere su questi argomenti. Ecco perché Vaccini Vogliamo Verità è costituito da genitori, da professionisti, da liberi cittadini prima ancora che altro, che magari provengono da esperienze ideologiche e politiche di diversa estrazione, ma che su questo si sono coagulati proprio per difendere prima ancora la salute, secondo poi la libertà di scelta terapeutica che è sancita dalla nostra Costituzione all'articolo 32 e questo è fondamentale. Mi dispiace che i competitor più avvantaggiati eventualmente sulla carta abbiano perso la capacità e la volontà di difendere uno dei punti principali della carta costituzionale. Vuol dire che forse a questi competitor politici interessa qualcos'altro, interessa forse qualcosa di diverso che è la popolazione e la sua salute. Vorrei precisare ancora meglio la vostra posizione, a partire dal fatto naturalmente che proprio il nome del vostro movimento ha in sé i vaccini. Quindi precisiamo ancora questo punto, non siete contro i vaccini, siete contro l'obbligo se ho capito bene. Assolutamente sì, noi non siamo contro i vaccini, chi in questa campagna elettorale ci ha sempre etichettato come Novax fa un grande errore non solo di tipo grammaticale ma anche di tipo semantico, ok? E quindi noi siamo per l'obbligo che deve essere eliminato. No obbligo perché in nessun paese è previsto un trattamento sanitario obbligatorio a pioggia. I trattamenti sanitari obbligatori vengono stabiliti di concerto con una commissione medica e con le eminenze politiche, il sindaco per esempio nei comuni e questi sono strumenti che noi abbiamo già, che la nostra legge prevede già, per cui se noi fossimo in Italia in questo momento in una situazione epidemiologica di urgenza o di emergenza ci sono già le strutture legiferanti che hanno predisposto l'opportunità di porre un eventuale obbligo per un qualunque tipo di trattamento farmacologico sanitario. Per cui non c'era nessun bisogno di quest'obbligo. Quest'obbligo infatti nasce da una situazione politica che ha ben altre origini, molto spesso al di fuori del nostro paese, perché l'Italia è stata candidata come guida nel 2014 alla campagna vaccinale in Europa, tant'è che dopo l'Italia guarda caso ha accascata, anche la Francia e la Germania si sono svegliati da un torpore di tanti anni e hanno anche loro sentito la necessità di legiferare in tal senso. Questo ce la dice lunga, perché né in Italia, né in Francia, né in Germania c'era la situazione epidemiologica tale da prevedere un'emergenza per cui era previsto l'obbligo vaccinale. Gentiloni, allora Presidente del Consiglio, ebbe a dire pubblicamente che in quel momento non c'era in Italia una situazione di epidemia. E questo viene confermato dall'Istituto Superiore di Sanità, viene confermato da tutti i player che riguardano la sanità. Paolo Rosato, resto del Carlino. Allargando sulla sanità, su tutto quello che ovviamente concerne il dibattito e soprattutto sulla sanità su come riorganizzare, ecco le chiedo in caso di vittoria come intendete riorganizzare, o comunque quali sono secondo voi le carenze, perché Bonaccini ovviamente porta i risultati positivi, la Borgonzoni attacca, gli altri attaccano, lei cosa ne pensa della sanità Emiliano-Romagnola e soprattutto secondo lei quali sono le carenze dove bisogna intervenire? Certamente. Parto col dire che faccio questa premessa, la sanità Emiliano-Romagnola viene il più delle volte definita come una delle sanità migliori in Italia, regione benchmark per queste caratteristiche. Io voglio cambiare il paradigma di queste affermazioni, perché se queste affermazioni possono avere una loro validità da un punto di vista economico, da un punto di vista sanitario, molto spesso non lo hanno da un punto di vista della salute che noi andiamo a derogare ai nostri cittadini, perché oggi quando si parla di sanità il più delle volte le argomentazioni vengono ricondotte a un discorso di sanità ed economia, cioè facciamo quadrare i conti, siamo una sanità che ha tutti i conti a posto, ma la sanità non è soltanto quello, anzi io da medico, visto che sono l'unico dei candidati a Presidente della regione Emilia-Romagna che fa questo mestiere da tantissimi anni e quindi che lavora, ha lavorato negli ospedali e che continua ad avere la relazione medico-paziente, posso dire che abbiamo una grande carenza, stiamo perdendo e stiamo distruggendo il rapporto medico-paziente e questo poi è l'input per il verificarsi di tutta una serie di criticità, perché se per esempio una delle criticità maggiori, se per esempio i pronti soccorso sono affollati di codici verdi e di codici bianchi e tutti i miei competitor alla Presidenza della regione continuano a dire che abbasseremo le liste, abbasseremo le liste, ma non si capisce mai come, non vanno mai alla causa del problema, gli affollamenti al pronto soccorso sono perché abbiamo una rete di guardie mediche e medici di base che sono affollati di burocrazia e non riescono ad occuparsi di problematiche semplici come il codice bianco o il codice verde che non dovrebbero arrivare al pronto soccorso, ma dovrebbero essere gestite e drenate da queste figure proprio perché ne hanno la piena competenza. Ecco quale sarebbe la immediata soluzione, ripristinare i medici di famiglia e le guardie mediche come medici e non come burocrati che devono gestire tutt'altro, per cui abbiamo già le soluzioni nei primi 90 giorni, questa potrebbe essere una delle soluzioni che da anni si cerca di risolvere e noi la potremo risolvere nei primi 90 giorni. La formazione medica nella gestione, oggi i medici sono formati con una formazione che risale a 30-40 anni fa, perché sui libri si studiano le acquisizioni di 20-30 anni fa. Oggi la medicina sta andando molto avanti e molto spesso la formazione più recente non viene mai elargita, allora perché questo non deve essere possibile in una regione che si gloria del fatto di avere la più antica università al mondo? Ecco, la regione deve poter incidere sulla formazione dei medici, su una formazione recente, avanzata, perché abbiamo bisogno di competere non solo con le altre regioni, ma anche con il mondo intero. Noi in Italia siamo una delle università di medicina che molto spesso forma in maniera teorica, ma in maniera pratica non forma come dovrebbe, secondo gli standard europei. Ecco, questo per me è molto importante. Sempre in tema sanitario, un argomento molto dibattuto in questa campagna elettorale è quello dei punti nascita. Come la pensate in questo ambito? Guardi, noi come al solito mettiamo sempre al centro l'individuo e l'essere umano. In questa campagna elettorale c'è chi ha chiuso i punti nascita, chi li vuole riaprire. Noi siamo per dare i servizi alla popolazione, per cui i punti nascita devono ritornare sul territorio, soprattutto nei territori montani di difficile raggiungimento, perché non si può creare alle famiglie un ulteriore stress quando c'è il momento, diciamo, urgente della nascita e avere il problema di dover raggiungere le città maggiori con, diciamo, tutto il carico emozionale che in quel momento una famiglia può avere per la nascita del proprio figlio o della propria figlia. I punti nascita devono assolutamente ritornare, anche perché le persone continuano a pagare le tasse e non possiamo e non vogliamo condividere un modello di sanità che è improntato sul taglio alla spesa per, diciamo, farci belli che questa sanità funziona da un punto di vista economico. Per me e per il Movimento 3V una sanità che funziona è una sanità che eroga i servizi al cittadino nella sua prossimità, perché il cittadino deve poter fidarsi della nostra fruizione di salute e sapere che quella salute la può, diciamo, la può fruire vicino casa, non con un viaggio della speranza. Questo è fondamentale. Le tasse le pagano tutti e tutti hanno il diritto di avere servizi sanitari vicino casa, soprattutto in questo ambito. Paolo. Lei prima quando parlava di vaccini faceva riferimento all'eliminazione dell'obbligo documentale per i midi, per esempio. Le volevo chiedere questo, siccome sull'abbattimento dei nidi anche lì è un altro cavallo di battaglia dell'amministrazione uscente, se ne parla molto, le volevo chiedere la vostra opinione su come intervenire, le misure su come intervenire sui nidi e anche sulle politiche di sossegno alla famiglia. Nel vostro programma, per esempio, c'è una sottolineatura sulle misure per l'abbandono delle neomamme, l'abbandono volontario delle neomamme del posto di lavoro per problemi connaturati alla genitorialità. Sempre riportando l'individuo al centro, il movimento vaccini vogliamo verità, sui nidi si esprime in maniera chiara, senza sé e senza ma. I nidi devono essere potenziati, tutti devono poter avere accesso economico ai nidi, ma le dirò di più, i nidi nell'aiuto delle neomamme che lavorano, dobbiamo portarli anche nelle strutture di lavoro, nei luoghi di lavoro e quindi incentivare, sia nel pubblico ma anche nel privato, a dotarsi di strutture che possano aiutare le neomamme, perché non è possibile che nel 2020 una neomamma su sei in Emilia Romagna, dopo tre anni, abbandona il luogo di lavoro per dedicarsi al proprio figlio. vuol dire che non stiamo dando salute ai nostri cittadini, li stiamo portando in una situazione di difficoltà di tipo sociale, di tipo emozionale e anche di burnout soprattutto. Il burnout è una situazione di difficoltà incredibile, in crescita esponenziale per le mamme soprattutto. Siamo per l'allattamento naturale, per l'incentivazione di questa pratica che oggi viene vista come qualcosa di estraneo alla natura dell'essere umano. Invece gli studi scientifici ci confermano ulteriormente che è una delle principali difese, soprattutto in ambito immunitario, per il neonato, oltre che essere un momento di acquisizione e di competenza per il neonato e per la mamma nella relazione sociale che in quel momento viene a crearsi. Un'altra cosa molto molto importante sono le terapie integrate che vogliamo predisporre a questo proposito, cioè le terapie come l'agopuntura, l'omeopatia, a proposito di servizi sanitari che devono essere erogabili e accessibili a tutti. Perché? Perché queste modalità diciamo vengono spesso etichettate come la medicina alternativa, invece altrimenti stiamo facendo un'altra volta un errore semantico, perché per esempio l'agopuntura è una medicina che ha una cultura millenaria, molto più della nostra cultura allopatica e quindi della chimica che ha 160-170 anni. Quindi forse abbiamo sbagliato in questi anni a pensare che quelle fossero le medicine alternative. L'agopuntura per esempio nel sintomo del dolore, uno dei sintomi per cui per la maggior parte dei casi le persone si recano in un pronto soccorso o in una struttura sanitaria per fruirne servizi. Bene, il dolore molto spesso viene gestito con farmaci. L'agopuntura nella maggioranza dei casi può gestire il dolore senza alcun farmaco e guardate, attenzione, questo è un passaggio molto importante. Il medico stesso fa la diagnosi e nel momento in cui è adeguato nel fornire l'agopuntura dà anche la terapia a costi praticamente azzerati, per cui quando pensiamo di ridurre la spesa pubblica è con questi metodi che dobbiamo ridurre la spesa pubblica e la spesa sanitaria e non tagliando in maniera orizzontale posti letto per esempio che è un'altra delle piaghe della nostra sanità. Quando una sanità che magari ha delle perdite economiche la dobbiamo far riemergere in modo immediato, la cosa che fanno tutti i dirigenti sanitari è quella di tagliare i posti letto. Perché? Perché è molto semplice a fine anno far vedere che abbiamo risparmiato una grossa fetta di danaro perché un posto letto costa 1.000 euro al giorno, quando abbiamo tagliato 30 posti letto in una struttura abbiamo fatto 30.000 euro al giorno, che moltiplicato per un anno siamo al di sopra degli 11 milioni di euro. Ed ecco fatto che possiamo dire che siamo una regione con i conti a posto e la salute dove la mettiamo? Il cittadino, la capacità del cittadino di fruire davvero salute, cioè mi sono recato in un luogo di salute e ho risolto il problema alla causa, non in maniera sintomatica. Dobbiamo smetterla di pensare, di mettere delle pezze, dobbiamo ripensare la medicina, come già gli strumenti ci sono perché la scienza ce lo dice, ripensare la medicina con una medicina non del sintomo, ma delle cause. Vorrei approfondire un altro punto, credo cruciale del vostro programma, che è quello del 5G. Spieghiamo brevemente, è questa nuova tecnologia che sta per essere introdotta anche nel nostro paese, quindi delle reti per i telefoni cellulari, una nuova rete ancora più potente. Perché per voi questo è un punto fondamentale? Noi siamo categoricamente contro il 5G, che non è una tecnologia nuovissima, è una tecnologia militare che, proprio perché è invecchiata, viene somministrata alla civiltà, come il web. Il web, anche quello, era una tecnologia militare. Quando è diventato fragile da un punto di vista delle incursioni, è stato dato alla società civile. Anche qui il 5G è la stessa identica cosa. Però che cosa succede? Che il 5G è una tecnologia non solo per i cellulari, ma per quello che è l'internet delle cose, cioè le televisioni, gli elettrodomestici in generale, e tutta una serie di sistemi di comunicazione. Il 5G funziona con una frequenza elevatissima, molto simile a quello del microonde. E il microonde cuoce, altera l'acqua, altera la composizione biochimica e fisica dell'acqua. L'acqua è il 75% della composizione corporea. E sul 5G non esistono studi che possano dirci quali sono gli effetti sull'essere umano. Bensì abbiamo degli studi sul 3G e sul 4G, fatti proprio qui in Emilia Romagna dalla professoressa Belpoggi, che ci dicono già che una tecnologia inferiore in termini di frequenze è già dannosa per il cervello, la barriera ematoencefalica e per l'aspetto cellulare. Quindi in mancanza di studi noi vogliamo applicare quello che è il principio di precauzione che la comunità europea ha messo in campo, grazie al cielo, per tutte quelle situazioni in cui spesso ci sono delle spinte economiche da parte di player multinazionali che non hanno a cuore il problema salute e sanità, ma che hanno a cuore i loro bilanci e invece noi, proprio per aderenza al nostro programma e coerenza con quello che diciamo, visto che non siamo dei professionisti della politica. Per cui ci vantiamo del fatto che quello che diciamo lo facciamo andremo a mettere uno stop fin tanto che questa tecnologia non sarà chiaramente in difesa della salute e non a sfavore della salute. Un altro punto, vengono tagliati gli alberi, soprattutto quelli più alti perché le antenne del 5G devono essere molto ravvicinate per poter trasmettere il segnale di antenna in antenna. Stiamo depauperando e vituperando il territorio ancora una volta. Quei pochi alberi che sono presenti sul suolo urbano, che è un suolo di desertificazione come si suole dire, perché non c'è un terreno ma c'è cemento e tutta la struttura diciamo sottostante è desertificata, andiamo ulteriormente a massacrare l'ambiente, quel poco di ambiente che abbiamo nelle nostre città. Questo per noi non è condivisibile, è in difesa del cittadino e della salute a lungo termine perché anche questo è un altro problema. Non succede niente, tutti ci dicono, ci rassicurano tutti che non succede niente, ma non si fanno mai degli studi a breve e a lungo termine, cioè prospettici e così come con i vaccini. Noi vogliamo uno studio scientifico, non vogliamo chissà quali ideologie, ma vogliamo avere uno studio scientifico prospettico che ci dica se la popolazione delle persone vaccinate e la popolazione dei non vaccinati ha una differenza nella fruizione di sanità e salute pubblica. Io adesso in particolare non conosco questo studio della Belpoggi che come sappiamo è un'eccellenza comunque nel campo della ricerca. Paolo Rosato, del resto del Carlino, una domanda al candidato Domenico Battaglia, lo ricordiamo, del movimento 3V, vaccini, vagliamo verità. Si è parlato di mobilità per esempio? Esatto, voi date molto risalto nel vostro programma all'ambiente e anche all'agricoltura, volevo fare due domande collegate. Una è quella sui blocchi emergenziali del traffico, un tema di questi giorni e recenti studi dicono che le macchine, gli automobili sono soltanto l'1% della causa. Volevo chiederle invece secondo lei come bisognerebbe intervenire anche perché insomma accanto c'è tutta una questione legata al riscaldamento domestico, lei accennava all'internet delle cose, insomma è quello che consumiamo che molte volte incide. E poi voi proponete il ministero, scusate l'assessorato all'agricoltura legato anche all'educazione alimentare e all'alimentazione. Volevo chiedere delle lucidazioni su questo aspetto. Allora, le rispondo prima, partiamo dal discorso delle infrastrutture o comunque dell'ambiente legato alle infrastrutture. Noi siamo fermamente convinti che non bisogna ulteriormente distruggere il nostro territorio. Il nostro territorio va più che altro preservato e custodito, quindi nessun ulteriore distruzione con nuove strade, ma semmai applicare una logistica diversa, quello delle chiusure, delle targhe alterne o della chiusura al traffico, per noi è una non soluzione, perché molto spesso si vanno a valutare i livelli del PM10, che sono le particelle più grossolane, che molto spesso non danno grandi problemi al nostro corpo, alla nostra salute. Io parlerei più che altro delle PM2, delle PM3, cioè di quelle particelle ancora più piccole che invece riescono a passare le barriere biochimiche e biologiche. Allora di quelle non si parla mai, quindi chiudiamo il traffico per un qualcosa di inutile. Poi, perché non cominciamo a valorizzare il trasporto in modo, con una logistica diversa, per esempio riducendo il traffico dei tir. Per esempio in Emilia Romagna abbiamo una sovrabbondanza di merci che arrivano, ma di cui non ci sarebbe bisogno. Per esempio, faccio un esempio, giusto per dire l'acqua minerale, una cosa semplice, dobbiamo avere per forza le acque minerali di tutte le regioni d'Italia, per cui i tir che ogni giorno si riversano sulle nostre strade, perché la domanda del mercato è quella di avere l'acqua minerale della Val d'Aosta piuttosto che del Veneto. Questa è una logistica a cui dobbiamo mettere mano. Un'altra cosa molto importante, non ci si cura per esempio perché non ci sono regolamentazioni del traffico aereo e del traffico navale. Questo è una delle fonti principali dell'inquinamento marittimo, quindi dei mari, e noi abbiamo un'ampia fascia di costiera e dell'aria, con fenomeni di ricaduta impressionanti, anche perché poi soprattutto per quanto riguarda gli aerei non sono previsti per la loro natura, filtri nella carburazione, nelle emissioni, perché andrebbero a ridurre la capacità di poter volare. Quindi queste cose vanno dette. Noi siamo per l'elettrificazione, il passaggio su rotaia delle merci fondamentale. Ho visto il PRIT recentemente, il piano regionale sui trasporti dà circa 11 milioni di euro alla costruzione di nuove strade e molto poco a quello che è il rinforzo su rotaia, altro che raddoppiare il traffico su rotaia. Dovremmo avere solamente traffico su rotaia e trasporti intermodali, cioè le persone devono poter avere un luogo dove parcheggiare l'eventuale mezzo privato e poi da lì avere la certezza di avere mezzi pubblici, ecologici che possono portarli nei luoghi in cui devono... Quindi la vostra posizione sulle principali infrastrutture come Passante di Mezzo, Cispadana, Gagliano, Compagliano Sassuolo, quelle che comunque dovrebbero andare a Dama, è di contrarietà o siete favorevoli? Noi siamo contrari perché non possiamo ancora continuare a distruggere il suolo. Avrei desiderio, se fossi alla Presidenza, di dedicare molti più danari al rinforzamento di quello che c'è già, alla manutenzione di quello che c'è già e non di dare soltanto le briciole per la manutenzione, una manutenzione che spesso poi magari viene compiuta in maniera superficiale e sommaria proprio per continuare a manutenere. Invece abbiamo le strade dei romani, dell'impero romano che continuano a essere in salute, ma seppur storie, e invece le nostre vengono asfaltate ma poi vengono ad avere le frane laterali, i fossi che si chiudono e quindi anche il drenaggio delle acque con le esondazioni durante i periodi critici. Quindi io andrei a risanificare il territorio piuttosto che costruire nuove strade che desertificano il nostro ambiente. Parlava Paolo Esatto di questo assessorato nuovo che proponete? L'assessorato è nuovo il nome ma soprattutto la cultura che ci sta dietro. Quando si parla di agricoltura molto spesso ci si dimentica che l'agricoltura deve produrre il nostro nutrimento. Io mi occupo di nutrizione oramai da tantissimi anni nella mia professione e quindi so benissimo di cosa parlo quando parlo di nutrizione e di alimentazione. Noi dobbiamo incentivare assolutamente le coltivazioni non intensive ma quelle che si rifanno ad una agricoltura biologica, biodinamica, un'agricoltura di lotta integrata che possa rispondere alla situazione ambientale nel rispetto della situazione ambientale. E questo ci dimostra, e lo posso affermare con grande certezza, che non è l'agricoltura intensiva che ci porta a una riqualificazione di tipo anche economico. Perché molto spesso i prodotti con agricoltura intensiva sono molto più deboli e quindi stanno per molto meno tempo sul mercato. C'è una dispersione di quei prodotti molto più elevata rispetto al biologico e al biodinamico. E in più un'educazione alimentare che parta dalle scuole con una revisione totale delle menze scolastiche ed ospedaliere. Perché è impossibile nel 2020 continuare a pensare che negli ospedali non si possa fornire un pasto che sia adeguato alla patologia che la persona ha e non dare un pasto uguale per tutti, molto spesso di qualità scadente perché ci siamo anche qui omologati a un criterio di appalto e di risparmio della spesa pubblica, anziché guardare come prima obiettivo quello che è la salute del cittadino. L'agricoltura è un capitolo fondamentale, importantissimo per l'economia dell'Emilia-Romagna, che però non è fatta solo di agricoltura, è fatta anche di manifatture, è fatta di partite IVA, è fatta di start-up. Le ricette vostre per l'economia quali sono? Le ricette per l'economia, per quello che poi la regione può incidere, perché da un punto di vista economico lei sa bene, quando mi pone questa domanda, che neanche a livello nazionale siamo in grado, oggi come oggi, per la situazione politica che abbiamo, di incidere in modo importante sulla nostra economia. Si vedono tutti i diktat che arrivano dalla comunità europea per poter far rientrare nei conti in salute il nostro paese. Per cui sempre nei limiti di quello che la regione può esercitare in questo ambito. Quindi dal nostro punto di vista è sicuramente favorire i giovani, favorire la stabilizzazione del precariato, favorire le mamme e le donne soprattutto, portandole a criteri di equiparazione tra il lavoro maschile e il lavoro femminile. È impossibile nel 2020 continuare a pensare a una discriminazione così importante per il genere femminile che, lo dico senza tema di smentita e senza che i miei colleghi uomini, diciamo, se ne abbiano, è l'elemento fondante di questa società, perché oltre a essere grandi professioniste, grandi menti pensanti, sono anche mamme e quindi sono le persone che più di ogni altro portano a compimento quel ruolo di crescita e di evoluzione della nostra società, perché tutti noi, maschi e femmine, siamo nati da una mamma e questo è fondamentale. Quindi aiutare le mamme è per noi la cosa principale. Paolo Rosato, il resto del Carlino a te. Torno un attimo all'attualità, il caso Bibiano, volevo chiederle, voi nel programma fate menzione della Costituzione come parte civile della regione e quindi anche di un intervento, volevo chiederle la vostra posizione. La nostra posizione è netta, senza sé e senza ma, su questo caso e sugli altri casi che magari potrebbero emergere in futuro. Anche qui, a fronte di una spacciata salute, e qui ancora peggio, si trattava di una salute di tipo psichico, emotivo, emozionale, si è andati a cadere in una situazione dove si è prevalza l'economia, il vil danaro, piuttosto che la preservazione della salubrità di famiglie e dei bambini. Oggi chi tocca i bambini sta toccando un elemento chiave della nostra salute e della nostra società, perché i bambini vanno non solo difesi e preservati in quanto tali perché non hanno, diciamo, strumenti di difesa, ma perché sono la società del nostro futuro. Per cui se qualcuno ha intenzione di formattare la società del futuro con criteri che sono alienanti e totalmente lontani dalla capacità di assumere criticità, di un pensiero libero, un pensiero armonioso, un pensiero creativo, queste persone non stanno facendo soltanto male a dei bambini, ma stanno portando ad un'evoluzione di una società formattata in modo tale da poterla controllare successivamente. E questo il movimento Vaccini Vogliamo Verità non lo permetterà, né ora né mai, perché crediamo che questa società deve restare umana e non formattata ai desideri delle multinazionali della comunicazione. Ricordiamo comunque per correttezza che le indagini sono ancora in corso, naturalmente, che riguardano alcuni casi. Vorrei chiederle qualcosa a proposito del diritto all'abitare, in particolare l'edilizia residenziale pubblica. Credete che servano nuovi interventi, quindi nuove case, oppure pensate di intervenire in qualche modo anche sui criteri di assegnazione? Allora, le nuove case non servono. Bisognerebbe riqualificare quanto c'è già, bisognerebbe riqualificarlo in termini anche di qualità, a proposito dell'ambiente e dell'inquinamento ambientale. Oggi continuiamo a costruire case con criteri che sono vecchi di 30-40 anni fa. Oggi abbiamo invece la possibilità di costruire case passive, case che non hanno bisogno di collegarsi alla rete elettrica, case che sono completamente a livello termico molto più gestibili rispetto alla dispersione termica che abbiamo oggi. Quindi dobbiamo riqualificarle e poi promuovere anche situazioni, per esempio, di co-housing, di servizi condominiali, per esempio la babysitter di condominio. Sono tutti servizi che in altre città esistono già, quindi non inventiamo niente, ma andiamo a prendere quanto di buono c'è già e di rodato. Quindi l'assegnazione deve avere un'assegnazione meritoria, quindi senza scappatoie, ma la cosa principale per quanto riguarda le case è dare una solubilità degli ambienti e non case popolari tanto per. Un individuo deve stare in una casa in salute, quindi non possiamo avere poi la muffa che riempie la casa. Perché? Perché quella casa non è stata pensata o ripensata con criteri nuovi e innovativi che ci possono far risparmiare energia elettrica, energia di riscaldamento, quindi metano, eccetera, eccetera. Quindi il nostro criterio è facciamo un bilancio di quello che c'è, valutiamo quello che c'è e lo riqualifichiamo e a quel punto saremo in grado poi di stabilire se realmente abbiamo la necessità di fare del nuovo. Il nuovo deve essere sempre molto valutato perché quando diciamo costruiamo qualcosa di nuovo deve essere nel pieno rispetto dell'ambiente. E noi oggi possiamo dire che il Movimento Vaccini Vogliamo Verità è l'unico partito ambientalista perché chi negli anni passati si è messo la bandiera dell'ambientalismo oggi tradisce perché appoggia il 5G, appoggia tutta una serie di risoluzioni che nulla hanno a che fare con l'ambiente. Abbiamo ancora il tempo per un'ultima domanda di Paolo Rosato del resto del Carlino. Sì, siamo ormai a una decina di giorni dal voto, quindi le volevo chiedere insomma questa campagna elettorale in queste ultime battute come la sta vedendo, qual è il suo giudizio, ma soprattutto il vostro appello al voto e anche al voto chiaramente utile per il Movimento 3V, ma soprattutto qual è il risultato che voi aspettate e quale vi ritereste soddisfatti. Guardi, le rispondo per l'ultima parte e poi ritorno indietro. Amo citare la frase di un allenatore di calcio che parlava poco bene l'italiano ma disse partita finisce quando arbitro fischia. Io sono qui per giocarmela fine in fondo perché credo che i valori che stiamo portando in questa campagna elettorale nessuno li sta portando, per cui io mi rivolgo a tutte quelle persone che sono scontente e che per anni non sono andate a votare perché non si sono più riconosciute nel panorama politico emiliano-romagnolo. Io mi rivolgo a tutti coloro che non vanno a votare. Oggi il Movimento 3V è la vera alternativa ad una politica, a un teatrino della politica fatta di promesse e poi di tradimenti immediati non appena ci si siede sulle poltrone. Io mi rivolgo alle persone umili, alle persone benestanti quanto quelle che non sono agiate. Perché? Perché la salute del cittadino è a 360 gradi. La devo interrompere perché è finito il tempo e termina qui questa conferenza stampa dedicata ai candidati alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna in vista delle elezioni amministrative del 26 gennaio. Il candidato di oggi era Domenico Battaglia, appoggiato dal Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. Grazie di essere intervenuto. Grazie per avermi ospitato, saluto tutti i teleascoltatori. E nelle prossime conferenze stampa saranno naturalmente invitati a partecipare tutti gli altri candidati nell'ordine estratto alla presenza del Corecom. A fare le domande con me oggi c'era Paolo Rosato, giornalista del resto del Carlino. Grazie anche a te. Grazie mille a tutti voi e grazie a Domenico Battaglia. È davvero tutto. Allora grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi RAI. Grazie. 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 Grazie.